Ecco, questo è il foro stenopeico di Santa Maria degli Angeli. In una visita di controllo da terra c'è un ingrandimento per vedere se non ci sono ostacoli, altrimenti risulta spostata l'immagine del suo. Il foro è inserito nello stemma araldico di Papa Clemente XI da cui prende il nome questa meridiana come meridiana clementina. Lo stemma poi lo ritroviamo anche al centro delle ellissi della stella polare. E questo è lo stemma del Papa al centro delle ellissi secolari e giubilari che sono qui rappresentate. Il foro è collocato tra la stella e i tre monticelli nella fascia e parte da verticale al foro. Grazie. Grazie.